In Dio giustizia è misericordia e misericordia è giustizia. Commentando l'odierno Vangelo di Matteo durante la Messa Mattutina a Santa Marta, Papa Francesco ha ricordato che in Gesù non solo c'è la verità, ma c'è anche la misericordia. Ed è proprio questa la strada che il Figlio di Dio ci insegna a percorrere, nonostante le difficoltà e le tentazioni. Il cammino di Gesù, si vede chiaro, è il cammino dalla casuistica, dalla casuistica alla verità e alla misericordia. Gesù lascia fuori la casuistica. A quelli che volevano metterlo alla prova, a quelli che pensavano con questa logica del si può, si può riqualificare, non qui ma in altro passo del Vangelo, di ipocriti. Anche col quarto comandamento questi negavano di assistere i genitori con la scusa che avevano dato una bella offerta alla Chiesa. Ipocriti. La casuistica è ipocrita. È un pensiero ipocrita. Si può o non si può. Che poi diventa più sottile, più diabolico. Ma fino a chi posso? Ma di qui non posso. È l'inganno della casuistica. Un 0.5